pubblicato il provvedimento dell'agenzia delle entrate del direttore dell'agenzia delle entrate che rende effettive e operative dal 2 maggio prossimo le opzioni di spalmabilità in 10 anni del super bonus del bonus barriere architettoniche e del sismo bonus per i cessionari te ne parlo velocemente in questo video dove ti riassumo i punti fondamentali poi in un successivo video andremo ad analizzare il documento in modo da capire quali sono i contenuti specifici e durante una live poi comunque ne parlerò probabilmente in quella di questo sabato oggi è mercoledì 19 aprile nella live di questo sabato alle 14 analizzerò il documento prima lascia mi piace iscriviti al canale verifiche contenuti per gli abbonati sai che il mio lavoro online si sostiene grazie a un sistema di abbonamenti puoi abbonarti a youtube puoi abbonarti a patreon e potrai accedere a contenuti esclusivi video esclusivi live e chat esclusive dove rispondo alle domande come quelle di diretta studio domani per esempio 20 aprile giovedì come ogni giovedì alle 14 diretta studio per rispondere alle domande in chat una live dedicata esclusivamente a rispondere alle domande in chat è una live aperta a tutti tutti la possono vedere anche successivamente alla diretta ma la chat è riservata ai soli abbonati youtube e con patreon posso rispondere alle stesse domande degli abbonati che mi vengono lasciate da dentro al portale sotto al post della diretta che ritrasmetto anche lì con il decreto uti quarter di novembre 2022 è stata introdotta la possibilità di effettuare la conversione diciamo così delle annualità del super bonus da 4 a 10 solo per i gestionari e in nella versione di allora per le comunicazioni effettuate fino al 31 ottobre 2022 poi con la conversione legge del decreto 11 è stato modificato il comma 4 dell'articolo 9 del decreto uti quarter è stato modificato inserendo anche il sisma bonus sisma bonus acquisti compreso ed eliminazione delle barriere architettoniche tra quelle agevolazioni che possono essere optate in 10 anni dal cessionario o da chi ha applicato lo sconto è arrivato ieri 18 aprile il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che ha reso effettive le modalità verrà aperta una sezione specifica nell'area riservata e potrà essere fatto direttamente dal fruitore dal cessionario da chi ha ricevuto il credito o da chi ha applicato lo sconto la conversione di una parte della annualità perché si lavora per annualità cioè la rata annuale il cessionario può decidere di o trasformarla tutta in 10 anni o anche solo una parte di essa questo dal prossimo 2 maggio poi dal 3 luglio sarà consentito anche attraverso gli intermediari che hanno la lega la delega all'accesso all'area riservata di poter effettuare questa opera questa operazione dal 2 maggio direttamente il titolare del credito nella propria area riservata può optare per questa soluzione che l'agenzia spiega all'interno del provvedimento può essere fatta anche in più fasi infatti indica per esempio la possibilità di attendere anche fine anno nel caso arrivino altri crediti tramite gestione gestioni che però per quanto riguarda la prima gestione lo sconto in fattura hanno delle date precise che ti dirò tra poco e poi diverse se parliamo del 2022 o del 2023 c'è la possibilità di lavorare su una parte della rata che può essere fatta diciamo questa opzione anche nel corso dell'anno su il credito che arriverà successivamente questo però lo analizzeremo quando andrò a vedere direttamente il documento perché c'è anche un esempio preciso di come funziona per ora ti basti sapere che puoi optare per i 10 anni anche solo per una parte del credito che dovresti usufruirne e compensarlo in 4 o 5 anni le date sono importanti perché il primo la prima versione del decreto io di quater prevedeva appunto le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura comunicate entro il 31 ottobre questo rimane fino al 31 ottobre le comunicazioni effettuate consentiranno sì la suddivisione in 10 anni ma solo per il super bonus mentre per le comunicazioni dal primo novembre al 31 marzo 2023 data introdotta con la conversione in legge del decreto 11 che è andata appunto a modificare il comma 4 dell'articolo 9 del decreto io di quater quindi tra il primo novembre 2022 e il 31 marzo 2023 le comunicazioni le prime comunicazioni entro il 31 ottobre 2022 riguarderanno solo i crediti super bonus mentre per le comunicazioni prime comunicazioni o cessioni o sconto in fattura tra il primo novembre e il 31 marzo 2023 sarà possibile sia per il super bonus che per il bonus barriere architettoniche 75% quello del 119 ter del decreto rilancio e il sisma bonus anche il sisma bonus acquisti una volta selezionata l'opzione dei 10 anni l'efficacia è immediata e non potrà essere né modificata né annullata per quanto riguarda invece il contribuente la possibilità di spalmare in 10 anni in dichiarazione dei redditi riguarderà solo il super bonus e solo le spese dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 anche questo inserito in corso di conversione in legge del decreto 11 che ha introdotto il comma 8 quinquies nell'articolo 119 del decreto rilancio che appunto stabilisce la possibilità irrevocabile di fruire in 10 anni del credito super bonus questi sono i punti fondamentali poi come ti dicevo in un prossimo video analizzerò il documento come faccio di solito e andremo a vedere poi le specifiche e se vuoi farmi qualche domanda lasciala nei commenti oppure nelle prossime live martedì, giovedì e sabato alle 14 grazie di essere arrivato fin qui lascia mi piace se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo contenuto grazie a tutti